Cari telespettatori bentornati a Primo Cittadino, questa sera il nostro ospite è il sindaco di terra e roveresca Antonio Sebastianelli. Buonasera sindaco, bentornato. Buonasera Simona, buonasera a tutti e tutti quelli che ci vedono, ci ascoltano, ci seguono su Fano TV e soprattutto un saluto alla regia. Che è sempre dietro le quinte a supportarci. Vi ricordo anche i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33, potete mandarci un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250. Per dare una continuità anche alla nostra edizione del telegiornale Occhio alla Notizia abbiamo visto che continuano in provincia le iniziative di solidarietà in favore del popolo ucraino. Quanti sono i rifugiati ospitati nella comune di terra roveresca e sindaco? Sono tanti anche da noi, penso abbiamo già superato le 25-30 unità. Per la maggior parte delle persone che sono arrivate vengono tramite ricongiungimenti familiari, alcuni hanno amici e quindi vengono dall'Ucraina e sono riusciti a fuggire perché poi in alcuni casi i viaggi sono stati lunghi anche più di una settimana per arrivare dall'Ucraina e qui in Italia. E soprattutto poi c'è stata una risposta enorme da parte anche e soprattutto di tanti privati cittadini oltre che di tutte le associazioni del comune di terra roveresca che hanno offerto ospitalità in alcuni casi e in altri casi ci sono proprio offerti con materiale, medicine e altre attrezzature. E di nuovo invito tutti quelli che vogliono contribuire a questa causa a registrarci sulla piattaforma dell'ambito raggiungibile tramite il sito del comune che funge un po' da coordinatore di tutta questa situazione. Anche se poi ancora stiamo aspettando eventuali informative, informazioni e soprattutto in questi ultimi giorni stiamo cercando di capire se effettivamente come c'era questa notizia ventilata dovrebbe essere così è previsto per queste persone un contributo giornaliero perché chiaramente ne hanno necessità. Assolutamente sì e quindi continua anche questo lavoro di gestione dell'accoglienza di questi ucraini. Mi raccomando registratevi anche perché poi è importante per tutta una serie di servizi essere tracciati anche dal punto di vista sanitario oltre che contributivo. Soprattutto dal punto di vista sanitario e altro per l'assistenza e poi dopo è importante perché poi questi servizi prevedono l'integrazione a scuola e come nel caso di Terre Roveresche ci siamo anche attivati per l'integrazione in corsi di teatro, nello sport eccetera e quindi questo aiuta di nuovo a far sì che queste persone possono integrarsi in una nuova comunità. Ci sono già messaggi per lei ma volevo chiederle anche questo sindaco prima di andare avanti perché ci sono anche altre difficoltà che deve gestire il comune a cui deve far fronte. Sto parlando del caro Bolletta, il caro Energia che ha colpito tutta Italia inevitabilmente anche le casse comunali. Si prospettava circa 150 mila euro in più nel corso del 2022, è corretto? Si è prospettata e l'abbiamo già inserita a bilancio, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione abbiamo fatto un lungo lavoro per trovare quelle risorse necessarie per far fronte agli aumenti e chiaramente non gravando come avete visto sulle tasche dei cittadini perché i servizi di tutti i servizi rimaste le stesse dell'anno precedente e degli anni precedenti e anche l'imposizione tarifaria quindi IMU, IRPEF e quant'altro è rimasto tutto costante. Quindi ecco questo è un grande lavoro, ma soprattutto siamo arrivati a questo punto anche perché abbiamo un bilancio solido a frutto anche di quello che è stato il percorso della fusione. Ci sono stati però alcuni dei problemi con la Tari per la tassa sui rifiuti puntuali, che cosa è successo? Sono arrivate delle bollette? Sono arrivate delle bollette, come ho avuto modo di dirlo, in alcuni casi proprio l'elaborazione ha avuto degli errori e quindi abbiamo di nuovo tutt'ora invitiamo i cittadini che hanno ricevuto una bolletta che probabilmente leggendola non l'hanno, non è ben chiaro o forse pensano che ci siano dei dati non corretti perché questo nuovo sistema, questo nuovo passaggio, tutti i software nuovi che abbiamo cambiato possono aver generato questo. Quindi senza problemi venite in comune, tra l'altro domani che è martedì è attivo in tutti i municipi, nello sportello polifunzionale una persona che si occupa in maniera specifica dei tributi, quindi venite, la bolletta viene esaminata e poi dopo viene corretta e poi il cittadino pagherà quella corretta perché lo dico poi dopo chiudo perché se no ci allunghiamo, ecco il discorso degli sportelli polifunzionali dove poi ci sono anche altri servizi a disposizione per i cittadini, però dicevo questa nuova tariffa che tiene conto di tre parametri perché nel passato la grossa accusa o problema era perché la bolletta si pagava solo esclusivamente in base ai metri quadri e ai componenti e chiaramente c'era, non la polemica, però quello che veniva puntualizzato dicendo ma un'abitazione non è che i metri quadri da soli producono i rifiuti, è giusto perché poi il principio europeo dice chi inquina paga e quindi ecco che con la tariff è stato introdotto questo altro fattore, questo altro criterio che è la quantità di rifiuti che viene conferito. Al momento vengono contabilizzati il secco, l'umido e la carta, di questi qui quelli che hanno un peso maggiore in termini di impatto di CO2 e chiaramente anche di costo è il secco e l'organico, viceversa la carta ha un impatto bassissimo. Per capirci se uno scarico di secco può costare all'incirca sui 2 euro, adesso vado a memoria, uno scarico di un bidone di carta va sui 2 centesimi, quindi questa è la proporzione. Le chiedono sindaco ci sono delle novità sul castello di Montebello? No, ancora no, adesso io ho provato a sollecitare più volte, è una questione che sta a cuore a tutti, l'amministrazione in primo luogo, però ancora non sappiamo quali sono le decisioni del giudice, quindi se accoglie l'offerta fatta da questa ditta di Roma, con sede a Roma in immobiliare, quindi di conseguenza parte un certo tipo di percorso che vedrà il Comune esercitare il diritto di prelazione, oppure se il giudice non accetta questa offerta e quindi si ricomincia da capo con un nuovo bando e una nuova asta. Mi dicono dalla Regione che ci sono dei problemi con la linea fissa, per cui mandateci messaggi con Whatsapp o il numero di cellulare che vedete in sovraimpressione, come ha fatto un altro cittadino che le chiede, il matatorio di schiepe è vero che cambia gestione? Se sì, quando? Su questa è una domanda al quale io non posso rispondere e non saprei neanche rispondere perché la gestione, quindi anche il bando per la gestione, è di competenza del Comune di Coglio al Metauro e del Comune di Fanno, perché in quel caso la proprietà è dei due comuni. Il caso però vuole che si trova sul territorio di Terra Roveresca, come già ho avuto modo di più volte di fare questa offerta per poter entrare anche noi, tra virgolette, in quella che può essere la governance del matatoio, quindi anche pagando la nostra quota eccetera, quindi entrare in proprietà. Vediamo se verrà esaudita questa richiesta perché sarebbe forse più funzionale. Certo, ed è iniziato invece il lavoro sul piano regolatore per uniformare un po' tutte le varie norme nei territori? Sul piano regolatore già siamo molto avanti perché è iniziato già da tempo, è un processo lungo, però io spero prima della fine di questo mandato, se no poi dopo chi ci sarà porterà avanti oppure deciderà di stravolgere il percorso iniziato, insomma iniziare con il percorso che prevede la prima approvazione, poi il passaggio con le osservazioni che vengono formulate dai cittadini e poi via via l'approvazione definitiva. Comunque la parte del percorso insomma di revisione, omogenizzazione e soprattutto di una revisione puntuale di alcune aree che da edificabili ritorneranno agricole, alcuni interventi puntuali richiesti da tempo specialmente a scopo industriale che invece passeranno da agricole a industriali, sempre all'interno di quella che è la cornice, cioè di mantenere lo stesso oppure diminuire il quantitativo di consumo di suolo perché noi siamo sotto questa normativa. Un messaggio interessante sindaco, ci ha scritto un operatore del centro di smistamento perché vorrebbe sensibilizzare tutti i cittadini di Terre Roveresche a comunicare alle proprie utenze, ai propri istituti di credito o in caso di ordini di pacchi il proprio indirizzo ma completo, cioè riportando anche la località. Ci riporto alcuni esempi, via Roma di Terre Roveresche purtroppo ci scrive sia a San Giorgio che a Piagge e che a Barchi, via Manzoni esiste a Orciano e a Barchi, via strada orcianense, cioè sia a San Giorgio che a Orciano e così via. Tutto questo rende ovviamente poco fluida la ripartizione e ringrazio anche tutti i cittadini insomma per la collaborazione. Sono dei dettagli che però in questo caso fanno la differenza. Dell'epoca, aiutano. Sui pannelli invece fotovoltaici, giovedì scorso avete iniziato a discutere anche delle linee guida per l'installazione dei fotovoltaici sui tetti dei centri storici, sulle abitazioni anche che sono un po' più nella zona periferica. Esatto, sì, è un atto dovuto che si incanale in quello che è il percorso chiaramente a monte della normativa nazionale che è quella che ha equiparato l'installazione degli impianti fotovoltaici o meglio ancora pannelli solari sia fotovoltaici che termici a opera di semplice manutenzione ordinaria. Quindi dove non necessita, salvo alcuni pochissimi casi, quindi quando ci sono immobili vincolati eccetera, ecco ipotesi, il famoso palazzo di Montebello, benché sia in centro storico, essendo vincolato lì non si potrebbero mai installare i pannelli fotovoltaici. Invece anche in centro storico con le dovute accortezze sì, quindi anche noi ci siamo incanalati in questo percorso e abbiamo fornito delle ulteriori precisazioni, per esempio non solo in quelle che possono essere le zone A, previste chiaramente per legge, ma anche in quelle che specialmente in campagna sono zone o edifici mappati definiti extraurbani, quindi hanno una tavola, hanno delle schede particolari, anche su quelli perché giustamente una casa in campagna, anche se all'interno di questo perimetro e quindi deve esserci un po' di salvaguardia, però diamo e concediamo la possibilità ai proprietari di installare impianti fotovoltaici per il proprio consumo. Un altro messaggio per lei, la copertura della piscina a Dorciano, i lavori sono fermi da più di un anno, ci può dare informazioni? I lavori non sono fermi da più di un anno, non è proprio preciso, noi li avevamo stoppati l'anno scorso quando poi si è aperta la stagione estiva, quindi abbiamo concesso la possibilità a tutti di poterlo usare chiaramente all'aperto. Il problema poi è che in questo periodo, come tutti ormai sappiamo molto bene, perché tutti i giorni quando accendiamo la televisione la prima cosa di cui parla dopo la guerra sono i rincari, le materie prime e di tutto quanto e quindi anche noi, anche tutti gli appalti pubblici, perché se voi considerate piano piano tantissimi appalti pubblici si stanno fermando per via dell'aumento delle materie prime e quindi abbiamo dovuto un po' ritarare tutto il progetto, quindi trovare una copertura diversa e altri dettagli che ci permettessero di rimanere all'interno del budget perché agli 819 mila euro previsti dal progetto abbiamo messo come amministrazione l'anno scorso già 80 mila euro per far fronte al caro materiale e probabilmente dovremo mettere qualche altra risorsa perché poi i prezzi sono schizzati all'esterno. Ma quello adesso la prossima settimana dovremo ripartire, il 6 e il 7 con la parte edile, abbiamo fatto la gara affidata alla copertura a una ditta di Bergamo e poi anche gli infissi a una ditta locale, quindi di conseguenza lì ormai la questione è abbastanza tranquilla, ormai i problemi del caro materiale li abbiamo superati con nuovi accordi e nuovi appalti e quindi si ripartirà, io spero, non spero, partiranno a breve, l'indicazione 6-7 aprile e la parte dei lavori edili, poi chiaramente daremo la possibilità d'estate di riutilizzare, quindi poi l'autunno metteremo la copertura mobile, o metteranno chi sarà, perché poi a noi se queste sono le indicazioni a giugno si vota, quindi poi ci sarà sicuramente un sindaco, poi si vedrà chi sarà, è certo, se siamo noi che ci ricandidiamo o qualcun altro, è certo. Sta emergendo il sindaco in questi giorni un disagio giovanile, lo abbiamo visto la settimana scorsa a Pesaro dove alcuni ragazzi hanno fatto esplodere delle bottiglie davanti alla scuola di Pantano, lo abbiamo visto anche a Cartoceto dove dei bambini addirittura hanno danneggiato gli scuolabus, anche a terre roveresche purtroppo sono stati compiuti degli atti vandalici ai danni del bar a ridosso del campo sportivo di San Giorgio di Pesaro, intanto se sono stati presi questi ragazzini, se non ci sono testimonianze o comunque si pensa che sia appunto un gruppo di minorenni comunque. Allora ad oggi più che non è in questi giorni, forse da un po' ormai questo disagio giovanile insomma si sta manifestando, poi il Covid sicuramente c'era anche prima, della pandemia c'è sempre stato, forse in misura minore, adesso è diventata anche in misura un po' troppo pronunciata, noi abbiamo avuto i problemi alla scuola media se vi ricordate a Monte Palazzino e tanti altri piccoli insomma danni qua e là, tra cui ultimo questo di questa struttura privata di questo bar esternamente che è stato danneggiato. Chiaramente gli è fatica capire chi è stato e chi non è stato e difficilmente si riuscirà a capire e a trovare i colpevoli. E quindi su questo noi ci siamo, ci stiamo attrezzando perché chiaramente non è così semplice affrontare questo problema, ci stiamo attrezzando e ci siamo attrezzati l'anno scorso, quest'anno è stato riconfermato grazie all'intervento della commissione scuola nel comune di Terre Roveresche, grazie alla professoressa Gabbianelli che segue, che è il presidente di questa commissione consigliare, tutti i membri, tra cui anche esponenti di minoranza come la consigliera Malvoni, la maestra Alessandra Carnaroli e poi l'assessore alla pubblica istruzione Sbrozzi che hanno attivato fin dall'anno scorso e dall'anno precedente uno sportello psicologico specifico di ascolto per i ragazzi. Poi anche la scuola fa accanto suo uno sportello apposito per questo e poi piano piano ci stiamo attivando anche con un altro progetto che è stato finanziato in parte anche con l'otto per mille della chiesa valdese eccetera che va sulla scia di quello che era scombussole e quindi cercare giocando di superare questo disagio che i nostri ragazzi chiaramente hanno. E si chiama proprio Giochiamo per uscire dall'isolamento, vediamo qua la locandina. Perché è un isolamento che secondo me non è stato dato solo dal Covid, è proprio un isolamento ormai sul quale tutti, specialmente i più giovani, più che parte per via dei social, Facebook, Instagram eccetera quindi quelli proprio ci isolano da quello che può essere la vita di tutti i giorni. Chi può partecipare? Lo vediamo ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, quindi potranno essere coinvolti in giochi di gruppo, abilità, lavoratori, giochi di sfida, di ingegno, quindi un bel momento di aggregazione e di socialità. Vediamo adesso anche le date. Insieme poi, questo si lega anche, come dicevamo all'inizio, con il discorso anche degli ucraini con questo progetto con la Caritas che è stato presentato ormai tre settimane fa di questi corsi di teatro dove appunto la Caritas diocesana di Fano ha scelto la periferia in questo caso, terre roveresche, per portare avanti questo progetto. Quindi questo è un po' il solco per cercare di stimolare, fare uscire più che dall'isolamento da questo ormai momento così di, diciamolo un po', qualche volta è colpa un po' di anarchia a 360 gradi, qualche volta sia nelle famiglie che a scuola, dappertutto. C'è questo fatto di non rispettare le regole, questo è un po' tipico in tutti noi italiani, noi siamo tutti un po' così, chi più chi meno. E soprattutto i giovani. Buonasera, volevo sapere, torniamo un attimo a parlare della Tarip. Le chiedono, come mai non si è saputo che venivano conteggiati oltre al secco anche umido e carta, visto che non sono l'unica persona che non sapeva di questi conteggi? C'era stata una campagna di informazione? Se ne è parlato tante volte, si è discusso, si è scritto in alcune assemblee in cui si è passato a step, quindi si è passato prima con, si contabilizzava solo il secco, parliamo del 2020, poi siamo passati con il secco, l'umido e la carta e poi da quest'anno, come nelle bollette ricevute avranno visto che le ultime due frazioni, la plastica e il vetro non attivo, si passa con il conteggio di tutte le frazioni, quindi poi dopo la ripartizione di quello che uno paga è anche in base a quello che smaltisce, però come dicevo all'inizio le due frazioni che hanno un peso più importante sono proprio il secco e l'umido, perché? Perché sono proprio quelle frazioni dove il comune spende la maggior parte delle risorse per lo smaltimento. Secco e indiscarica noi spendiamo come smaltimento 130 euro a tonnellata, invece per quanto riguarda l'organico addirittura siamo a 150 euro a tonnellata, quindi ecco che se noi riusciamo a diminuire il quantitativo portato o in discarica o gli impianti di trattamento abbiamo insomma il beneficio più alto per tutti i cittadini. E poi l'altra cosa che chiaramente ha impattato anche la bollettazione del 2021 è stato anche il fatto che come è successo per l'Imo negli anni precedenti siamo passati a un'unica tariffa, perché nel passato avevamo quattro tariffe diverse una per Occiano, Barchi, Piagge e Sanio e chiaramente anche questa va in qualche modo uniformata. Per quanto riguarda gli asfalti, le strade comunali e quelle provinciali. Allora apriamo due parentesi veloci, partiamo dalle comunali, il comune è stato un punto importante perché chiaramente una strada sistemata, asfaltata è indice di sicurezza, di decoro e chiaramente bella per chi ci vive e per il turista che viene da fuori. Qualche volta, spesso, non è così per le strade provinciali, ahimè specialmente della parte nostra e quindi qui spero e penso di interpretare anche il sentimento di tanti altri colleghi sindaci che fanno parte della parte di là del Cesano dove forse questa parte della provincia è proprio dimenticata da chi ci amministra anche se poi in alcuni casi esprimiamo consiglieri provinciali eccetera. Però c'è una una trascuratezza importante che non è oggi cinque anni o dieci anni, forse quindici anni o più. Io non lo so, qualche volta abbiamo formulato questa richiesta a voce il Presidente, però forse la formulerò per iscritto perché ci piacerebbe sapere, mi piacerebbe sapere, penso anche ai nostri cittadini, effettivamente negli ultimi dieci, quindici anni quante risorse sono state spese nelle strade della parte nostra, diciamo della Val Cesano, ma anche qui del versante del Metauro e quante state spese in altre zone, quindi penso al Monte Feltro, alla parte della Valle del Foglio eccetera, ma non tanto perché giusto per avere un'idea e soprattutto se bisogna un po' riequilibrare quello che è stato gli investimenti in questi anni perché se no anche molta gente si sente un po' a parte trascurata perché se fate un giro nelle nostre strade, in alcune strade provinciali uno viene da piangere, oltre che la sicurezza e quindi poi è fatica, puoi investire sul turismo, fanno le giornate fai di primavera, il borgo più bello, vota pergola il borgo più bello, ma poi dopo le strade per arrivarci fanno letteralmente schifo. Passate i miei termini, è mai così. Insomma il biglietto da visita comprende logicamente anche... Comprende soprattutto le strade, poi c'è tutto il... ma la strada è un... perché io mi ricordo sempre questo aneddoto di un gruppo di ciclisti che era venuto dal Piemonte e era venuta, stava alloggiando a Fana, ha detto le vostre colline sono stupende, solo che forse non torneremo più perché facendo una passeggiata in bicicletta abbiamo rischiato l'incidente due o tre volte e quindi questa paura e quindi frena le persone a venire. Eh sì. La TARIP è un tema piuttosto caro ai suoi concittadini, le chiedono non era conveniente in fase di periodo transitorio avere la doppia bollettazione, in questo modo l'utente aveva modo poi di valutare dove migliorarsi. La doppia bollettazione non è possibile, uno sceglie o un tipo di bollettazione che è quella tradizionale, che è basata esclusivamente sui metri quadri e componenti, con tutte le sue limitazioni. Oppure sceglie quello che si chiama sistema trinomio, quello che l'altro giorno, non so, così con un grande, come fosse stato un grande traguardo, mi sembra che è passata una legge regionale in cui viene sviluppata, favorita o insomma incentivata la tarifazione puntuale. Ormai tra virgolette comincia a essere il passato, come il fatto dell'utilizzo dei sistemi online, delle domande online eccetera. Non è che è un'innovazione, ormai possiamo dire che è il passato. In Italia ci aveva avuto questa grandissima accelerazione col Covid e quindi una scelta bisogna farla e quindi si è andata sulla quella che era trinomio perché giustamente dobbiamo dare un peso perché poi nelle stesse bollette i cittadini in alcuni casi, chiaramente chi è stato virtuoso negli anni passati si è vista anche la premialità per la CO2 risparmiata nel 2019. Chiaramente in alcuni casi può essere state anche di pochi euro, 10-12 euro, in altri casi più alti eccetera perché uno cerca di premiare quello che è il merito. Passiamo a qualche inaugurazione, direi di partire dalla chiesetta di Rupoli, questo monumento ai caduti proprio nei giorni scorsi il sindaco? Sabato scorso abbiamo inaugurato questa cappellina, il monumento dei caduti, chiamata in dialetto la Madonna del Falcuccio. C'è stata una manutenzione straordinaria. Sì, abbiamo dato una manutenzione straordinaria esternamente e internamente perché era necessaria, anche se piccolina ma ha un valore storico e affettivo molto importante per quella che è la comunità di Rupoli e Monteverde. Diceva di questo nome? La Madonna del Falcuccio, sì perché quella è una zona del Falcuccio, la Madonna del Falcuccio così si chiama. Poi dopo ci sono anche tante altre piccole opere come questa sparse nel territorio. Questo essendo comunale, perché questa è di proprietà comunale, possiamo intervenire. A me ci sono anche altre chiesi che non sono di proprietà comunale sul quale ci piacerebbe intervenire ma non possiamo perché chiaramente non essendo nostro non possiamo. però dove è possibile anche cerchiamo anche di aiutare, contribuire e quant'altro. E poi ci sono altre inaugurazioni già fatte. Il campo da tennis. Il campo da tennis è uno. Anche questa domenica è stata fatta ieri, domenica, campo da tennis sintetico di Orciano. Mi sembra il 10 di aprile avremo quella del campo sintetico a San Giorgio, perché questa è farci la parte di una politica di ristrutturazione e miglioramento di alcuni campi da tennis sparsi nel territorio. E poi il 9, ricordo, alle 11, questa volta a Montebello, avremo l'inaugurazione del centro di urno per ragazzi disabili che, appunto, dove abbiamo investito oltre 150 mila euro per un'opera di consolidamento. Anche questa fatta prima del Covid, ma poi col Covid tutta una serie di lungagni, slitta tutto. E quindi ci sarà sabato 9, alle 11, la messa e l'inaugurazione di questo importante lavoro. A proposito di inaugurazioni, di investimenti, per quanto riguarda il PNRR, siete al lavoro per cercare di reperire questi fondi? Noi siamo sempre al lavoro, continuamente, costantemente, grazie al lavoro degli altri colleghi dell'amministrazione, degli assessori, dei consiglieri, grazie anche al lavoro degli uffici, perché ad oggi abbiamo presentato otto domande a valere sui fondi del PNRR, tra cui ce n'era una, quella del famoso borgo dei 20 milioni che ha vinto a Montalto, noi anche lì abbiamo partecipato, poi non abbiamo vinto, ma se uno non partecipa è difficile poi passare alla fase successiva. E quindi lì abbiamo fatto ad oggi otto domande, la maggior parte sulle scuole, asili, immense comunali, eccetera, ma poi le altre sulla cultura, anche su progetti, insomma, di ampio respiro. E poi ce ne sono altri sul quale stiamo lavorando, speriamo di partecipare, ma in alcuni casi non è così semplice, per essere uscito un bando sullo sport, però prevede che per partecipare, allora o è un comune grande, o capoluogo di provincia, o di regione, o sopra 50.000 abitanti, quindi Fano potrebbe partecipare, altrimenti per qualsiasi comune italiano può partecipare, però quell'impianto deve essere riconosciuto da una delle federazioni nazionali aderenti al coro. Quindi è come dire non partecipate, no assurdi. Le chiedono, è possibile sostituire il tappeto sintetico del campetto sportivo di San Bartolo dove i bambini giocano, perché è l'unico spazio disponibile nella frazione? Il campetto sintetico di San Bartolo richiede, anche quello richiede una manutenzione importante, ci stiamo ragionando, pensando come altri interventi da fare e quindi sì, è necessario anche lì, prevede anche l'estrutturazione anche di alcune parti dell'accesso al campo sportivo di San Bartolo. Sindaco, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a parlare di tantissimi altri argomenti, ho visto delle voliere, ho visto delle foto sul conflitto del comune. La voliera è l'argomento che va per la maggiore. Eh sì, e poi la Gobergamo. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco Sebastianelli. Dunque, se paghiamo per smaltire l'umido, le chiedono, cosa aspettiamo a fare un biodigestore? Ah, questa è una bellissima domanda. Non è il fatto che qui è l'approccio che è sbagliato, perché costruire o a terre roveresche in questo caso, in quel sito davanti alla discarica, al terreno agricolo che è Carafaneto, o a Vallefoglia, o dentro la discarica di Monteschiantelli, eccetera, un impianto di quella portata, è quell'aspetto che è sbagliato, perché costruire invece, bisognerebbe costruire tanti piccoli impianti, addirittura bisognerebbe costruire ognuno per la propria comunità. Quindi nel caso nostro, noi più o meno conferiamo dai 400 alle 500 tonnellate di umido, quindi forso, all'anno. Allora, la nostra scelta, e sul quale noi abbiamo chiesto soldi perché c'era un bando del PNRR, è quella di valutare e quindi di chiedere soldi per installare un impianto di, si chiamano compostiere di comunità, che non sono quelle piccoline che dava la vecchia comunità montana da noi, ma sono impianti un po' più grandi, nel nostro caso saranno come un container da 6 metri, quello delle atto sufficienti possibili. Chiaramente questo non dà piacere a tanti altri gestori che potete conoscere, però secondo me, secondo anche la nostra amministrazione, è l'unica linea che uno può perseguire, cioè gestirli in proprio, quindi il comune, e soprattutto in piccolissima scala, perché non servono a nessun impianto di quella portata, perché come tante volte ho detto, i rifiuti, come l'acqua e come anche l'energia elettrica, sono beni comuni, quindi vanno ragionati e gestiti non con la logica del profitto, ma con la logica del benessere della comunità, questa è la differenza, e chiaramente il risparmio è la differenza, quindi per terra roveresche, quindi per il nostro sistema che gestiamo in proprio, lo farei, perché lì significa abbattere i costi, quel costo abbattuto è il risparmio per i cittadini, tutto il resto non funziona. Cambiamo argomento, Lago Bergamo, ci sono delle novità? Lago Bergamo, sì, a breve ci saranno delle novità, perché a breve, io penso, entro la prima decade di aprile avremo un ulteriore consiglio comunale, poi partirà la prima parte dei lavori, quindi quelli di pulizia, di sboscamento, e poi dopo chi ci sarà porterà avanti il progetto o meno. Lavori tanto attesi? Beh, questo è un lavoro che forse va alla comunità di Barchi, si attende dall'85, anni in cui è stato aperto il lago. Cosa ne pensa? Le chiedono dei dirigenti che hanno chiesto la mobilità volontaria e pertanto se ne sono andati, non crede che perderete dei punti di riferimento, anzi che perdere dei punti di riferimento sia un danno alla collettività? I dirigenti vanno e vengono, c'è chi va e c'è chi vuole venire, quindi alla fine poi dopo le persone possono cambiare per tanti motivi, chiaramente quello che sta a cuore è che quando si insedia un'amministrazione, l'amministrazione si insedia con un programma, quindi quel programma che è dell'amministrazione, quel programma che è votato dai cittadini deve in qualche modo essere attuato e quindi chiaramente quella è la legna guida che bisogna portare avanti. Poi quel programma, quando ci sono le elezioni come ci saranno fra poco, poi dopo quel programma e quindi quella squadra può essere valutata positivamente oppure cambiata, quindi perdi i punti di riferimento, può darsi che uno cambia anche in meglio, qualche volta si cambia in peggio, ma alcune volte si potrebbe cambiare anche per il meglio. Dicevo prima di andare in diretta, Sindaco, di queste voliere che sono state installate nel centro storico, chiedo alla regia di farvele vedere anche per le persone che non abitano nel comune di Terra Roveresca di che cosa si tratta e perché sono state installate. Allora questi sono sistemi installati da ditte specializzate che fanno questo di lavoro e servono per catturare i tanti piccioni, i tanti colombi che affliggono i nostri centri storici perché poi i nostri centri storici sono afflitti da quelli che sono appunto i piccioni o i colombi, chiamateli come volete, che sporcano e imbrattano finestre, palazzi, strade, e quindi è indecoroso per chi ci abita e anche per il turista che viene a visitare. Quindi questo è un modo in cui questa ditta specializzata, in questo caso una ditta della Romagna, ma esistono tante altre ditte che fanno lo stesso lavoro, questa vogliera chiaramente cattura il piccione, non lo uccide, poi questi piccioni vengono presi e liberati in altri posti, chiaramente non qua. E quindi ogni due settimane queste vogliere vengono svuotate e poi continua questa attività per quattro mesi, quindi ha proprio lo scopo di togliere il più possibile i piccioni, perché il piccione entra, c'è il becchime, quindi rimane lì, non è che muore all'interno, lui mangia, beve, poi dopo la ditta specializzata, cadenza 15, lo porta via. E quindi queste vogliere sono state installate in momento tre centri storici e a breve verrà installata una quarta a Vergineto Alto, perché poi viene messa nei punti in cui c'è più possibilità di attrarre i piccioni stessi. Ecco, e continua anche la riqualificazione degli spazi pubblici a partire dalla nuova piazza di San Giorgio, anche qui dovremmo avere delle foto. Sì, questo è un intervento pensato da tempo, chiaramente c'è stata anche una domanda, la piazza rimane aperta, non è che la piazza è chiusa al traffico, perché questa taglia in mezzo a quella che è via Garibaldi. E quindi ecco, una riqualificazione comprende anche la parte anteriore del municipio e comprende anche la riqualificazione di quello che è lo stabile ex cinema, che è molto importante per i cittadini, insomma, san giorgesi in questo caso. Per farci un teatro. E l'idea è quella, in quell'ex cinema, di fare il teatro di Tere Roveris, che questo è un progetto candidato e che ha buone probabilità, insomma, di arrivare, di avere successo. Ecco, però bisogna sempre programmare e portarsi avanti. È un intervento che costerà circa mezzo milione, giusto? Allora, la piazza di per sé, con la riqualificazione della facciata, mezzo milione. Poi l'abbiamo messo insieme al recupero dell'ex cinema, chiaramente è un progetto che può andare avanti a stralci. L'ex cinema non lo vedete perché rimane opposto al municipio. Complessivamente, compresa anche la riqualificazione, salvo che il mondo non continui ancora a stravolgersi, perché poi c'è sempre questa incognita dell'aumento dei prezzi, però è un progetto che complessivamente ha un impatto di due milioni e mezzo. E anche in questo caso ci verranno anni, suppongo, per vedere la fine e il taglio del nastro? Anni, e dipende. Se tutto va veloce, come potrebbe essere, non dico anni, ma forse un po' meno. Anni no, un anno forse sì. Vabbè, è piuttosto breve invece. Dipende sempre da chi ci sarà, perché poi qualcun altro che verrà potrebbe anche stravolgere, come spesso accade, tutte quelle che sono le idee o la visione, perché noi cerchiamo di costruire una visione diversa per tutto il nostro territorio. Altri progetti riguardano il settore della viabilità, ad esempio la rotatoria. La rotatoria di Orciano, già presentata, questo è sull'incrocio per San Filippo, che appunto prevede la messa in sicurezza, chiaramente questo è un progetto che rispetto a quello di prima ha un impatto molto più limitato anche dal punto di vista delle risorse e va a mettere, decoro, soprattutto a mettere in sicurezza quell'area perché in quel caso molte di quelle case si affaccino direttamente sulla provinciale. Questo è un progetto elaborato insieme all'ufficio viabilità della provincia, in particolar modo con l'architetto Gili, che saluto, con il quale insieme, insieme al nostro ufficio tecnico, anche in questo caso la progettazione è interna, come tutti quelli delle domande già fatte per il PNRR, perché avere un buon ufficio tecnico che funziona permette anche di camminare veloce. Chiaramente non siamo Pesaro, che è anche l'ufficio per le nuove opere, i nuovi progetti, però al nostro piccolo cerchiamo di andare avanti. E anche in questo caso sono compresi i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, quindi è un progetto proprio ambizioso. Esatto, di riqualificare tutta l'area e poi tutto il marciapiede che è anche lì, previsto da tempo, che collega tutta la parte qui di Arrossini con l'area chiamata il Monte delle Stelle con l'inizio del paese. Continua, d'altra parte, il progetto di cittadinanza attiva. Allo scorso anno 35 persone, se non ricordo male, hanno aderito. Tutti impegni e noi dimezziamo le tasse. Come funziona? Esatto, il titolo è questo. Tutti impegni e noi scontiamo di metà latare che tu paghi a fronte di attività che il cittadino fa per il comune, che può andare dal taglio erba, al fatto del sostegno per i compiti, apertura e chiusura di immobili pubblici e quant'altro. Ed è aperta anche per le associazioni, volendo. Ah, ecco, quindi anche loro possono partecipare, è interessante. Sì, sì, questa fa parte di una vecchia normativa che risale ormai al 2017, quando inizia il famoso baratto amministrativo. Non so se qualcuno si ricorda. Qui da quella volta ad oggi, fino al 2017, abbiamo attuato questa cosa prima a San Giorgio e poi a Terre Loveresche. Altra cosa, perché prima parlavamo di beni comuni, Nectarubo è il lavoro, eh, Simona, faccio io, eh. Vi dicevo, altra attività che facciamo, presto nel prossimo consiglio porteremo finalmente l'acquisizione di un altro immobile abbandonato, che si trovava a Barchi, in questo caso in Via Leopardi, proprietario che da tempo sparito non si trova, abbiamo fatto tutti i passaggi dell'ordinanza, oggi abbiamo fatto ulteriori atti, quindi i prossimi giorni andremo in consiglio e faremo l'acquisizione del patrimonio di questo immobile, come abbiamo già fatto in altri casi. E non solo oggi, abbiamo pubblicato per la prima volta, perché questo è un percorso che nasce da lontano, però come tutte le cose innovative, adesso anche altri comuni d'Italia ci stanno seguendo, abbiamo pubblicato il bando in cui due immobili che abbiamo acquisito un po' di tempo fa, una San Giorgio e una Rupoli, verranno dati a chi vuole, in diritto di superficie, quindi il cittadino che le prende lo ristruttura e poi ci può abitare, fare delle attività, eccetera. Una sorta di operazione antidegrado? Soprattutto ha quello scopo lì, antidegrado e soprattutto per frenare questo abbandono, perché ci sono tanti immobili lasciati così, che è un delitto. Chiudiamo con le elezioni comunali, ne ha parlato già diverse volte durante questa diretta, quando si terranno a giugno? Allora, adesso non lo so se sarà così, i rumors, perché ormai penso che si andrà per l'ultima data utile, che se non sbaglio è il 12 giugno, la domenica, domenica e penso è lunedì, si voterà come sempre. Penso, però chiaramente non sono io il capo del governo, il ministro dell'interno, quindi il decreto. Ancora tutto da confermare. Ormai tutto da confermare, ma penso che si vada verso quella data lì, anche perché poi ci sono dei tempi tecnici. L'ultima data utile, come sempre, la finestra è il 15 giugno, quindi più o meno. Quindi si voterà forse più o meno con la stessa data di cinque anni fa. Lei ha già detto in diverse occasioni che si ricandiderà. Ho letto che probabilmente anche l'ex sindaco di Barchi, Mascarucci, potrebbe essere uno dei suoi competitor. È confermata questa voce? Io ho visto solo questo articolo sul giornale. Chiaramente noi pensiamo alla nostra squadra, al nostro programma, che stiamo finendo di scrivere con la partecipazione non solo di chi farà parte della squadra e quindi di chi si presenterà davanti ai cittadini, ma con tante altre persone, giovani, eccetera. Quindi stiamo mettendo a punto il programma. Quindi rinnoverete un po' anche la squadra? Ci rinnoveremo un po', quindi è parte di questo percorso di realmente importante. Forze nuove, giovani, nuove idee, eccetera. Quindi andiamo avanti spediti su quello che poi sarà il percorso da fare. Abbiamo visto che di cose ce ne sono tante ancora da seguire. Ce ne sono tante, la visione. E poi ci sono tanti altri progetti, anche più piccoli, nel cassetto, del quale se parliamo facciamo mezzanotte, poi dopo divento anche noioso io, mi accorgo da solo, sì. Non è vero. Però, Sindaco, adesso non so se riusciremo ad avere il nostro ospite ancora il prossimo mese, perché poi c'è anche un mesetto circa di silenzio elettorale, quello appunto preelezione. Vediamo cosa succederà. Vediamo quello che succede. Poi dopo ci rivedremo forse qui o forse no, non lo so, però ecco. Vediamo. Intanto auguriamo a lei un buon lavoro per questi ultimi mesi. Perché ancora c'è tanto da fare. Esatto, ancora c'è tanto. Grazie per aver accettato, come sempre, il nostro invito. Grazie a voi per la possibilità, grazie a tutti e a tutti quelli che ci seguono. Grazie al Sindaco Antonio Sebastianelli. Un ringraziamento anche alla regia, Riccardo Sora e Cristiana Guerra. Domani mattina alle 7 l'appuntamento con Massimo Foghetti e la lettura di Quotidiani. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.